Nessun treno né stazione per l'arrivo di Gianduia a Pinerolo. Quest'anno la tradizionale maschera si è calata dalla torre campanaria del Duomo della città. Ad assistere Gianduia sono stati gli uomini del soccorso alpino della sezione del CAI di Pinerolo, in occasione dei festeggiamenti per i loro 90 anni di attività. Prima dell'arrivo di Gianduia il soccorso alpino ha fatto alcune dimostrazioni di salvataggio di feriti e di discesa con la corda. Indubbiamente un pomeriggio diverso per Gianduia che durante tutta la discesa ha salutato i bambini e lanciato le caramelle. Arrivato a terra ha poi preso la chiave della città dal sindaco Eugenio Butiero, aprendo così ufficialmente i festeggiamenti del carnevale.